Allora, quest'anno al Pistoia Blues Festival di Pistoia, appunto, ci saranno big della musica italiana internazionale, qualche nome, Mannarino, Niccolò Fabi, Bollani, Battiato, ma ci sarà una band lucana, la band dell'Aria Lausberg, come vi hanno presentato proprio quelli del festival, Radio Lausberg a Pistoia la prossima settimana, giovedì 13 luglio, che emozione sarà? Sì, non è uno scherzo, è un'emozione grandissima, anche per noi è stato un po' come vivere un sogno, perché dalla presentazione del disco D'Esordio ci siamo ritrovati dopo pochissimo tempo, ci ritroveremo su un palco così importante come il Pistoia Blues, dove si sono esibiti i migliori artisti internazionali, diciamo, è una grandissima soddisfazione, noi siamo pronti, emozionati, pronti, ma con umiltà vorremmo rappresentare la nostra Basilicata e portare la nostra musica. Contaminata storia, questo bellissimo disco D'Esordio arriverà quindi anche sul palco del Pistoia, aprirete il concerto di Niccolò Fabi, che proprio a Pistoia festeggerà i vent'anni di carriera. Chi comincia nonostante una gavetta importante, perché non siete i primi arrivati? È vero, anche noi, diciamo, è da molti anni che cerchiamo di fare musica, per quanto riguarda poi il progetto Radio Lausberg non è da molto tempo, quindi stiamo iniziando, diciamo, siamo appena all'inizio, però davvero una grandissima occasione questa di Pistoia che cercheremo di onorare al meglio. Cosa racconterete alle centinaia di persone che troverete lì a Pistoia? Ma a questo ci stiamo pensando... La scaletta, l'avete preparata? Sì, sì, la stiamo preparando, ma non più di tanto, perché comunque cercheremo di essere noi stessi, con la nostra musica, cercheremo di portare le nostre caratteristiche e il nostro linguaggio, il nostro dialetto a Pistoia, quindi non ci stiamo preoccupando di questo. Penso che alla fine la musica abbia il potere di arrivare al cuore delle persone, quindi non tanto, non conta tanto, poi se siamo una band che canta in italiano o in dialetto, ma conta poi emozionarsi ed emozionare. Oggi avete presentato questo viaggio a Pistoia, alla regione Basilicata, stiamo vedendo le immagini che vanno, che stanno andando sopra questa intervista, è stata una bella soddisfazione anche quello, cioè la Basilicata vi coccola e vi accompagna per il viaggio verso Pistoia. Verissimo, questa è una grande verità perché noi poi nasciamo un po' in maniera strana, perché la nostra etichetta è bolognese, pertanto a noi serviva anche un po' di riconoscenza anche locale e fare, rappresentare, cioè presentare il nostro lavoro alla regione Basilicata è stata un'altra grande opportunità, un'altra grande emozione, quindi siamo felici di questo. Un'ultima cosa, un'altra soddisfazione della soddisfazione perché nella compilation ufficiale del Pistoia Blues Festival c'è anche un vostro brano, quale? È vero, il nostro brano si intitola Africa Spera, non è presente nel nostro CD d'esordio perché era un singolo nato così da lavorare nei prossimi mesi, poi non lo so, il caso ho voluto che capitasse nelle mani giuste, è piaciuto molto e pertanto ci ritroveremo a Pistoia a presentarlo, a suonarlo per la prima volta. Grazie a tutti.